E' il polivone! Lo porto! Signor Jack, e invece con le lezioni di balla come va? Come va? Questa è abbastanza buona! Adesso ci non è la balla abbastanza buona! E fatemi vedere qualche cosa! Adesso mamma! E quando rimano, vai a mettere un bel teschio, vai! Quella Gina già ballava molto bene prima! No! No! Però adesso con le vostre lezioni diventerà una perfetta ballerina veridana! No! No! Ovvero, no! Cos'è più sentita, com'è romantica, com'è sentimentale, com'è soffritto! Il polivone, dopo il piano, viene il forte! E quando mi piace un forte, vuoi l'uomo muovere, 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 muovere! Basta! 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 In casa mia non ci balla! In casa mia si bianca! E va bene! E se devi vedere! E se devi vedere! Tra 30 anni proprio ne parliamo!